Open Day all'Istituto Kindergarten di Giuliano. Lo storico istituto giulianese da oltre 40 anni sul territorio ha aperto le porte della scuola per accogliere tutta la cittadinanza e i genitori del comprensorio per far conoscere la struttura, le attività e le novità di questo 2018. Noi abbiamo inteso organizzare questo Open Day, cioè l'apertura della scuola ai genitori, veramente non solo ai genitori ma alla cittadinanza intera per consentire a loro e ad altri di conoscere le attività e le metodologie e i progetti che offriamo ai nostri alunni per rispondere alle esigenze di ciascuno di loro nel rispetto della propria crescita. A parte le attività didattiche consuete, noi abbiamo inteso organizzare per il prossimo anno scolastico, a supporto della didattica, progetti di arte e scienze, progetti emozioni con la lettura, progetto musicale, progetto di potenziamento della lingua inglese, progetto teatrale e inoltre abbiamo deciso di accogliere gli alunni diversamente abili gratuitamente, sia per l'iscrizione che per la frequenza. Altra novità importante è lo sportello psicologico che viene attivato con la presenza di uno psicologo per cercare di aiutare in maniera anche mirata la crescita dei nostri alunni. Un amico è così e ricordati che finché tu vivrai, se un amico è con te non ti perderai. Isra è sbagliata e retorce da qui, non ha nella vita un amico così.